se vi piace questo genere di video cliccate il pollice in su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina poi in questa settimana volevo farmi le unghie aspettate che mi sfugge il nome della mandorla russa cosa ne pensatemi se mi faccio la mandorla russa sulle mie unghiette volevo farle bianche ditemi un po cosa ne pensate adesso apriamo i pacchettini allora quello più grande lo lasciamo dopo il primo che vi faccio vedere è proprio questo quello del pacchetto che era arrivato no questo era il pacchetto che era arrivato che io avevo aperto la disputa che mi era stata pagata ovviamente io poi gli ho restituito i soldi come vi ho già detto prima allora questo che cos'è è un portaprofumo da borsetta in roso gold ne avevo preso un altro da sheen che ho buttato via perché non funzionava questo è comodo perché a parte che è in vetro e per riempirlo basta svitare qua vedete ecco molto semplicemente qui ho messo il profumo che mi ha regalato mio marito e qua si vede l'apertura quando finisce molto 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 bello questo mi è arrivato stamattina vediamo che cosa è perché non ho avuto tempo di guardare allora ottimo anche questo ho aperto la disputa che vado subito a chiudere se mi hanno pagato restituito i soldi restituisco i soldi anche di questa non so quanto tempo è che sarà tre mesi non vi ricordo sinceramente eccola qua ecco facciamo così non mi ricordo sinceramente quanto tempo fa l'ho ordinata comunque sotto vi metterò il link allora questa è la catenina che serve per allungarla ovviamente va a girocollo ovviamente e ve la faccio vedere perché è uno spettacolo è veramente uno spettacolo mi sembra averla pagata due ore qualcosa veramente stupenda l'ho vista proprio per caso guardate che meraviglia stupenda veramente con tutti i cristalli tutti i cristalli questo aperto tiriamolo giù prima che per il cristallo veramente bella ottima poi questa qui l'avevo già aperta perché ce l'ho qui da più di un mese e vi faccio vedere qualche cosa ho ordinato un po di cose di giù sopra tutto pacchettino è vuoto allora ho preso questi quattro qui che sono dei fogli per il sudore allora quando io andavo a ballare sudavo tantissimo e la pelle era diventa lucido ovviamente del viso questo cosa fa praticamente sono hanno varie profumazioni è un foglio sottile tipo carta da forno per farci capire che assorbe praticamente il sudore e non toglie il trucco sempre se riesco a prendere a farvi prenderne uno non riesco a prenderne uno comunque sono fogliettini non volevo toglierlo perché adesso ovviamente non ballo e non lo utilizzo comunque sono foglietti sottilissimi questo al tè verde e servono proprio per quel motivo cioè gli ho presi per nella speranza che di ritornare a ballare poi l'ho preso alla camomilla al pink qua che non so che cos'è e alla lavanda molto molto carini dopo stavo sentendo se profumavano no non profumano non so se quando li apro poi perché sono hanno sono quadrati ovviamente non sono così piccoli sono piegati in due non lo apro perché mi scoccia poi cosa ho preso questi due pigmenti per gli occhi sono pigmenti 3d 9 di adesso lo faccio vedere no non è un pigmento io pensavo che era un pigmento invece che praticamente guardate quanto poco ce n'è c'è vabbè è sono questi stupendo non non pensavo ce n'era così poco comunque questo e l'altro e di questo colore qua molto 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 belli non lo tocco l'altro perché ce n'è c'è bellissimo però scusate ragazze invece di fare pausa fatto ho stoppato sono andata a vedere questi due qui praticamente questi come potete vedere sono identici o quasi ma il 2 e io l'avevo preso che era viola assolutamente non era così perché c'è aperto praticamente è uguale all'altro è un po più scuro ma sempre sul rame vedete io invece c'è questo se vi metto la vi metterò c'è questo che il 2 vi metterò la foto qua fianco qui vi faccio vedere che era viola non così per se no non l'avrei preso comunque c'è poi qua questo qui adesso non mi ricordo se lo dato già la feedback ma questo veramente non sono soddisfatta io pensavo che era un pigmento non una roba così comunque non mi piace poi cosa ho preso questo che di questa marca qua è un contorno occhi che vi piacciono tanto i contorno occhi di della di aliexpress finora mi sono sempre trovata bene è bellissimo il packaging guardate che bello così è fatto così vi dirò com'è quando lo userò perché ho se ne sto finendo un altro poi come contorno occhi ho preso anche questo questo qui è un contorno occhi proprio anti occhiaie cioè io ho le occhiaie molto viola molto pesanti e sono andata a vedere che questo è è una pasta però vediamo è molto molto cremosa molto andiamo non è profumata sa di niente comunque è molto molto densa quando la provo poi ovviamente vi farò la recensione è bella pastosa questo è proprio c'è scritto che questo è proprio contorno occhi proprio per di chi ha le borse e le occhiaie molto evidenti eccetera poi ho preso questo che dicono in che in sette giorni le ciglia si allungano questo va messo mattina e sera essere costanti è bellissimo perché è fatto così a penna basta schiacciare questo qui viene fuori questo qua che modi e liner vedete bello piccolino da mettere sulle ciglia e anche qua ve lo farò vedere mi farò sapere come poi ho preso a lasciamo in tema occhi ho preso questi due correttori che sono molto molto coprenti questo è il numero 5 vedete ve lo faccio vedere la marca è questa qua non vedo l'ora di provarlo ed è questo molto pastoso e coprono davvero tanto questo è il colore adesso vi faccio vedere l'altro l'altro il numero l'altro il numero 2 non mi ricordo quanti colori c'erano sono sincera questo è più chiaro quell'altro è un po più giallo faccio vedere così questo è questo vedete che questo qua è un po più giallo rispetto a questo che è più chiaro siccome io ho gli occhiari o gli occhiaie molto evidenti vediamo questo come poi allora questa è un scrub per labbra molto quando l'ho trovato in offerta l'ho preso c'è così anche la mela mi pare che che sia questa è la fragola lo vedete come profuma tantissimo una cosa peccaminosa questo da provare e poi ho preso questa una crema viso bellissimo 50 ml di prodotto essence vi farò sapere com'è non l'apro perché questa devo finire quella che ho adesso come crema che non mi manca tanto e questa è un altro acquisto di aliexpress poi apriamo questo che so già che cos'è e sono contenta questo è arrivato in 20 giorni ragazze veramente tanto di cappello questo venditore perché è arrivato in brevissimo tempo e l'ultimo pacchettino che riguarda aliexpress questo ci tenete tanto allora questo l'ho pagato 18 euro quasi 19 euro scusate il mio cane è bello che di lei tutto chiuso mi piacerebbe sapere con chi ce l'ha va beh allora questo è allargo la ecco cos'è questo è adesso ve lo faccio vedere il colore è bellissimo a due cerniere come potete vedere c'è birba che ha agitato ed è un porta come si possono piastre 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 questo non mi interessa piastre per gli stamping parte che l'ho aperto alla rovescia fantastico ecco così eccoci qua questo via se un posta piastre vedete c'è a posto qui qui e qui poi qua si inseriscono le piastre qua ci sono quelle lunghe vedete perché io ne ho già uno ma non così grande e sicuramente non ce ne stanno così tante così le voglio radunare tutt'assieme invece da averne 40 in giro e qua ci sta a posto era scontata ma 18 euro e io l'ho presa al volo perché parte c'erano tre colori e ovviamente è la presa rosa c'è che colore volevo per le volte che prendessi questo scusate eccolo qua bellissima bella c'è così tutto in ordine bellissima ottimo 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 adesso finito aliex preesposto di là la roba andiamo con skin questo il pacchetto di skin e vi faccio vedere che cosa ho preso io allora con skin terzo acquisto che faccio e allora aspettate un secondo è che tiro poi la roba ok allora dicevo è il terzo acquisto che faccio con skin finora non è che mi sono provata tanto bene perché allora soprattutto le maglie io vedo seguo sempre una ragazza che si chiama alessandra non so non credo guarderà mai il mio video comunque la saluto bacio grande cara lei si trova benissimo lei prende una maglietta la prova e gli sta da dio io la prendo la provo e faccio schifo come incidenti fa non lo so comunque allora vi faccio vedere quello che ho preso io allora soprattutto reggiseni quello che mi piace tanto di skin e questi sacchettini qua che sicuramente io riutilizzerò che sono veramente fatti bene con la zitta e poi ci sono molti sconti e bisogna approfittarne allora c'è questo è enorme questo è enorme no vabbè comunque questo è un reggiseno sportivo con l'incrocio così che mi piaceva tanto vabbè è uno spero non credo si possa mandare indietro le reggiseni speriamo bene questo va bene questo è un reggiseno sportivo per quando faccio ginnastica questo è bello con la zip davanti bello piace bello duro sicuramente tolgo la poi agli affari dentro che ci sono che a me non piacciono poi ho preso quest'altro qua speriamo bene eccoci anche questo è enorme vedete mi piaceva tanto questo l'incrocio così e anche questo è enorme io ho capito non compro più niente ve lo posso garantire io che non compro più niente e anche questo è bellissimo questo cioè queste da guardate che dietro che roba che c'è questo incrocio qua scusatemi l'interruzione allora questo è un incrocio stupendo veramente stupendo chissà su che bello devo provarlo e vedere se lo posso mandare indietro no allora l'unica cosa che mi ho preso come abito è questo abito si va bene come abbigliamento è questo top che ho paura ad aprirlo effetto animali e lo provo e poi vi dico se mi sta o no allora mi piace come fate molto leggero ovviamente l'ho preso per andare a ballare poi cosa ho preso ho preso allora una mascherina guardate che bella effetto brillantinata bellissima molto bella non mi ricordo cosa l'ho pagata questa una così e l'altra con tutti i brillantini quando l'ho vista non potevo non prenderla veramente bella adesso non mi ricordo se l'ho pagata sulle tre euro non mi ricordo proprio ma penso di sì poi ho preso un campione di questo fondotinta qua c glen che è la nuova linea come si chiama della di scena ho preso questo fondotinta qua e adesso vi faccio vedere che una ragazza una signora che l'ha recensito ha detto che è molto bello per cui ho voluto trovarlo anch'io ed è questo qua guardate come arriva bellissimo ecco ecco e questo qua quando lo provo perché siccome non lo uso adesso per cui inutile che lo apro ve lo farò vi farò la recensione poi ho preso una palette adesso vi faccio vedere perché non so se sapete che sheen ha fatto la linea trucchi e ne parlano veramente tanto bene allora questo il packaging esterno e questo è il packaging interno e si tratta quando l'ho vista non potevo non prenderla non li apro perché tanto non li utilizzo perché sono tutti chiusi vedete come sono sigillati bene cioè a quattro colori shimmer uno due tre opachi e l'altro metallizzati vedete quanto sono belli veramente erano anche in offerta ottimo poi ho preso ciclerno quest'altro correttore qui se non sbaglio ad essere un correttore ok devo far pausa perché non riesco a ecco questo qui è bellissimo non lo apro perché non lo utilizzo adesso e sapete anche voi che quando si aprono una cosa poi bisogna usarla allora questo è il numero è il numero non c'è il numero allora aspettate un attimo questo è veramente ottimo io ho visto la recensione e di questa signora qualche affatto che ha fatto che ha provato questi prodotti qua e si è trovata veramente bene per quello li ho presi visto che poi erano anche in offerta allora e sto aprendo l'ultimo il pacchettati divinamente veramente niente da dire pacchettati molto bene allora eccoci qua questo è il packaging esterno vediamo se riesco a cercare fuori eccoci qua e questo è il packaging interno eccolo qui e adesso vi faccio vedere che cosa è questo guardate che meraviglia questo è una paletta per contouring lo dice anche la parola 502 nude ce n'è un'altra di palette ma è shimmer io invece ho preso questo che a questi colori qua vedete è calamitata vedete quando si chiude è calamitata allora questo è tutto quello che ho preso da sheen dovrò provare i reggiseni sperando che li posso cambiare ma ho paura di no speriamo bene perché 2 se uno sicuramente da cambiare comunque li proverò allora sono molto contenta di queste dei trucchi quello sì e anche quello era il fondo tinta e questo ve lo consiglio e anche di tutto il resto della mia roba che tutta la ok io vi ringrazio tanto di avermi seguito scusatemi se mi sono infappinata un po un po di casino ma cercherò di essere più presente ciao ragazzi è un piccolo video per farvi vedere come ho sistemato questo porta placche quelli degli stamping ho messo quelli grandi questi qui che sono quelli nuovi non so se li avevate mai visti questi qui trasparenti questo qua grande e poi questi sono quelle rettangolari che ci vanno dentro quelle con la plastica bianca ce ne stanno veramente tanti ok poi finito qua questa questa parte qua invece sono quelle tonde o quadrate piccole vedete ce ne stanno veramente tanti e molto in ordine qui in fondo invece ho messo queste che sono a quadrato molto grande sono proprio come potete vedere fuori misura per cui ho pensato di metterle qua per averne eccole qua sempre a posto ecco per cui per chi lo volesse metterò il link perché veramente bello ciao ciao